Continuiamo con il progetto musica e andiamo a occuparci oggi dell'inserimento dell'artista nel database finalmente. Allora la tabella la vedete qui rappresentata, ricordo che ha i seguenti campi, un campo id che è la chiave primaria ed è auto incrementante, un nome, il nome dell'artista, varciar di 250 caratteri, data di nascita di tipo date, anno inizio che è un intero di lunghezza 4 e poi anno fine, anch'esso intero di lunghezza 4, facoltativo, opzionale. Inserendo l'artista all'interno del database, una delle prime problematiche che dobbiamo affrontare è l'eventualità che l'artista sia già presente all'interno della tabella. Quindi dobbiamo fare questo tipo di controllo. Questo tipo di controllo non può essere fatto sugli id perché la nuova occorrenza che inseriamo all'interno del database non ha ancora un id, verrà assegnato in automatico. Pertanto l'unica altra possibilità che abbiamo è quella di confrontare i nomi. Potrebbe essere un'ipotesi restrittiva però è anche vero che normalmente il nome di un artista è univoco. Ora per fare questo tipo di controllo potrei scrivere del codice, quindi prima ancora di andare a inserire la riga all'interno della tabella potrei andare a verificare che non sia già presente una istanza, una riga nella tabella con quel particolare nome. In realtà però posso aggiungere al campo nome di questa tabella un vincolo di unique per imporre che non sia possibile inserire all'interno della stessa tabella una riga dove ha il nome e lo stesso. Facendo questa operazione però vado incontro ad un problema, un ulteriore problema almeno con la versione della software che ho installato io sul mio computer che devo dire sono un po pigra, non ho voglia di fare aggiornamenti perché funziona tutto così bene però in realtà prima o poi dovrò farlo. Quindi con la mia versione c'è un problema con la codifica dei caratteri perché se cerco di attribuire a questa variabile nome questo vincolo di unique purtroppo la lunghezza di 250 caratteri con questo tipo di codifica non va bene. Non va bene perché ogni carattere viene codificato con 4 byte, se vado a moltiplicare 250 per 4 ottengo un valore che è superiore alla lunghezza consentita. Pertanto la prima cosa che dovrò andare a fare è quella di modificare questa dimensione da 250 a 190. Avvio il pannello di controllo di XAMPP, avviamo i due server, e poi in realtà io questa operazione l'ho già fatta però andiamo a vedere quindi il database che qua per esigenze particolari dovuto chiamare musica 21 22 perché musica c'era già ma non ha importanza. Sono dettagli questi. Allora vediamo la tabella artista nella struttura e vedete io ho già modificato la dimensione di nome a 190. Come si fa a modificare un campo? Basta andare qua, si entra in modalità di modifica e poi si vanno a variare alcune proprietà. Invece per quanto riguarda il vincolo di unique non posso agire da modifica ma devo andare qua in più e scegliere unica oppure analogamente seleziono l'attributo e poi clicco qui su unica e vedete che infatti tra gli indici c'è il nome e questo ha un vincolo. Possiamo andare a vedere. Se clicco su modifica vedete che nome è un indice unique. La stessa cosa la devo fare per la tabella album quindi anche per album ho dovuto modificare la dimensione la lunghezza di questa stringa a 190 quindi non faccio nessun controllo col codice su questa problematica della duplicazione del nome dell'artista ma sfrutto il vincolo di unique della DBMS in modo tale che se si tenta di inserire un artista già esistente con lo stesso nome verrà generato un errore che verrà quindi comunicato sarà possibile intercettare per poi andare a provvedere di conseguenza. Quindi iniziamo a scrivere il codice che permette appunto di fare questo inserimento all'interno della package database ho inserito ho creato la classe artista manager questa classe gestisce tutte le operazioni crude sul database che riguardano l'artista. Questa classe quindi ha i seguenti attributi le seguenti variabili distanza una variabile di tipo DB manager vi ricordo e non sto più a ripetere tutto quanto perché l'ho già spiegato in una lezione precedente che la classe DB manager è quella che si occupa che incapsula intanto tutte le parametri che servono per accedere al database e inoltre fornisce due metodi per aprire la connessione e chiudere la connessione oltre a caricare in memoria il driver. Quindi questa istanza serve appunto per poter poi effettuare le operazioni di apertura e chiusura del database. Poi c'è un'altra variabile distanza di tipo connection che conterrà il riferimento alla connessione e poi vedete questa variabile res di tipo operation result che è una classe che ho creato io e poi vi spiegherò che cosa serve. La classe artista manager ha quindi un costruttore il quale crea un'istanza della classe DB manager proprio per poter effettuare le operazioni che ho detto prima di apertura e chiusura della connessione. Allora inizio a occuparmi appunto dell'inserimento dell'artista creando il metodo public void void per adesso poi vedremo che cambierà questo tipo restituito insert ho chiamato così il metodo e passo come parametro l'artista. Per prima cosa vado a definire la query sql string sql query è la variabile che contiene la quale uguale è una insert into nella tabella artista poi devo specificare lo schema inserirò il nome la data di nascita anno di inizio e anno fine. Dopo lo schema devo inserire lo schema lo devo inserire perché non vado a specificare tutti i campi poiché manca l'ID. Dopo vado invece a indicare quali sono i valori che devono essere inseriti all'interno di questi campi. Però qui non posso indicare variabili di java tantomeno utilizzare i metodi GEC che sono quelli che mi permettono di risalire a nome data nascita eccetera e quindi userò dei segni a posto quattro punti interrogativi. Eccola qua. Questa è quella che dovrà essere eseguita però dovrò andare a specificare adesso cosa sono questi punti interrogativi. Per far questo devo creare prima di tutto devo aprire la connessione verso il database. L'istruzione per aprire una connessione è la seguente. Allora utilizzo la variabile CON, l'oggetto CON che è appunto riferimento alla connessione che userò poi per successive operazioni. Poi l'istanza di database manager per poter richiamare il metodo OpenConnection. Come vedete mi dà un errore. Vado a vedere che cosa mi suggerisce Eclipse e mi dice che posso o aggiungere una dichiarazione TROWS oppure andare a racchiudere tra try e catch questa istruzione. Io scelgo la prima azione ossia faccio in modo che questo metodo possa lanciare un'eccezione. Ecco. Che tipo di eccezione? Una SQL exception. Questo significa che un'avventuale eccezione dovrà essere gestita dal chiamante. Il chiamante di questo metodo è la servlet. Il passaggio successivo è quello di andare a fare una precompilazione di questa query scrivendo questo codice, questa istruzione preparedStatementPS uguale CON, questa variabile, punto preparedStatement passando come parametro la query SQL query. E subito dopo andremo quindi con i metodi set a specificare i valori di questi segni a posto, di questi punti interrogativi. Il primo punto interrogativo fa riferimento al nome che è una stringa, quindi usiamo il metodo setString e come valore passiamo il nome dell'artista che preleviamo attraverso il metodo getNome, artist.getNome. Il secondo punto interrogativo, 2, è una data, quindi usiamo il metodo setDate. Il valore lo andiamo a recuperare da artist mediante il metodo getDataNascita. E per quanto riguarda gli ultimi due punti interrogativi, il 3, il 3 e il 4, andiamo a impostare la data, l'anno di inizio, l'anno di fine, utilizzando i metodi getNome inizio, getNome fine, siccome sono interi, usiamo il metodo setInt. Poi una questione importante, sappiamo che l'artista che stiamo inserendo non ha un ID, ma viene generato dal server di database in automatico, quindi è importante poterlo recuperare. Come si fa? Dobbiamo aggiungere un secondo parametro che è questo, Statement.RetroGeneratedKeys. Questo secondo parametro ci permette poi di andare a recuperare l'ID che è stato generato. Beh, ho aggiunto un po' di commenti perché tutto sia più chiaro. Adesso possiamo finalmente occuparci dell'esecuzione della query. Quindi andremo ad utilizzare questo Statement, ExecuteUpdate, che è lo Statement a eseguire quando la query, una query, Insert, Delete, Update. Vedete come è stato richiamato questo metodo, utilizzando lo Statement che abbiamo preparato prima, PS. e questa chiamata restituisce un intero. Che cosa rappresenta questo intero? Il numero di righe che sono state effettivamente coinvolte nell'operazione. Facciamo questo controllo, quindi. Se row è uguale a zero, Cosa vuol dire questo? Significa che adesso lo inserirò solo come commento, poi vedremo cosa fare. Che nessuna riga è stata modificata. Quindi l'operazione non è stata effettuata. Altrimenti, l'operazione di inserimento è andata a buon fine e quindi possiamo recuperare la chiave primaria generata automaticamente. Per ottenere la chiave primaria generata, dobbiamo definire una variabile di tipo ResultSet e assegnare a questa variabile ps.getGeneratedKeys. Questa operazione ci restituisce un oggetto che poi dobbiamo andare a vedere all'interno che cosa contiene. Per poter andare a vedere che cosa è stato restituito con questo metodo, siccome l'oggetto restituito è di tipo ResultSet, dobbiamo utilizzare questo iteratore .Nest. L'ho già affrontato in lezioni precedenti, comunque ripeto come funziona. Quando viene eseguito il punto Next, c'è, immaginate, un puntatore virtuale che si posiziona sulla prima riga di questo ResultSet. E' possibile poi utilizzare i metodi GET per andare a recuperare il contenuto dei vari campi. Infatti vedete che qua viene usato il metodo GETINT con indice 1 che va a prendere quindi il contenuto della prima colonna di questa prima riga, che è appunto l'id generato. Quindi con primary key.getint1 otteniamo l'id e poi lo vado ad aggiungere all'istanza di artista perché mancava. Quindi con il metodo SetID applicato da artista vado ad aggiungere l'informazione mancante, cioè l'id. Altrimenti, anche qui per il momento scrivo solo un commento, nessun id generato. Può verificarsi? Non lo so, però prendiamo in esame tutte le possibili situazioni. Infine chiudiamo le connessioni che sono state aperte, quindi PS e poi la connessione al database server. Però, inizialmente per non avere degli errori, io ho imposto che questo metodo restituisca void, cioè restituisca niente. Ma è la situazione, diciamo, migliore? È la scelta migliore? No, non è la scelta migliore perché c'è un chiamante. Vi ricordo che c'è una servlet che va a chiamare questo metodo, quindi chiede questo servizio, questa classe, di inserire dell'artista nel database, ma poi deve ricevere una risposta. Cioè deve sapere la servlet se l'operazione è data a buon fine, perché poi dovrà comunicare qualche cosa in risposta al client. Inoltre, che cosa restituire? Se l'operazione non va a buon fine, bisogna restituire un messaggio di errore. Se l'operazione va a buon fine, si vuole magari restituire l'istanza di artist con finalmente il suo ID, in modo che sia possibile eventualmente fare altre operazioni. Quindi il tipo restituito può essere diverso. E quindi a questo punto l'unica cosa che possiamo fare è quella di far restituire a questa query un oggetto, un oggetto di una classe che dobbiamo andare a creare. La classe in questione l'ho chiamata Operation Result. Andiamo a vedere com'è fatta. La classe in questione ha i seguenti attributi. Un integer che è il codice JDBC, ossia ogni volta che si genera un errore, il JDBC, questo connettore, ci manda indietro un codice di errore. Poi andiamo a vedere quali sono i codici di errore. Poi una stringa con un messaggio, un messaggio che verrà utilizzato, per esempio, per inviare una certa risposta all'utente. E poi c'è un generico oggetto che trasporta il contenuto dell'operazione. Quindi, per esempio, se facciamo una ricerca di dati sul database, i dati restituiti fanno parte del content, mentre il messaggio è un messaggio informativo che può anche essere nullo e in questo caso, se l'operazione è andata a buon fine, dentro a questo codice di errore non ci sarà nulla. Questa classe ha una serie di costruttori, un costruttore con solo il contenuto, perché appunto se non c'è messaggio di errore o messaggio di alcun tipo e neanche codice di errore, il risultato conterrà solo content. E poi ci sono tutte le altre combinazioni possibili. C'è il content con un messaggio, c'è l'errore con un messaggio, e poi codice di errore, messaggio e content. Tutto quanto, insomma. Questa classe poi ha i soliti metodi get e set, insomma, e il toString, e non sto a specificarli oltre perché già li conoscete. Vado quindi a modificare il tipo restituito, che non è più void, ma è OperationResult. Ovviamente, avendo sostituito il tipo, adesso mi dà un errore perché si aspetta che io restituisca un'istanza di OperationResult. Quindi, ho già definito, come variabile di distanza, questa OperationResult, rest, l'ho inizializzata a null. Posso intanto iniziare ad aggiungere, qua, come ultima istruzione, questo ReturnRes. Dunque, in questo caso, se row è uguale a 0, andiamo a creare un'istanza di res con un messaggio di errore. Quindi, res uguale NewOperationResult, e qua scriviamo nessuna riga modificata. Quindi, posso cancellare il commento. Analogamente qui, posso andare a creare l'istanza, passando come messaggio, nessun ID generato. E qui, invece, in questo caso, se l'operazione è andata a buon fine, posso andare a restituire un messaggio di chiave primaria generata, passando anche l'artista. In questo modo. Un'altra problematica è quella legata a queste costanti esplicite, che sinceramente non mi piacciono proprio. Allora, per risolvere questo problema, e quindi definire una serie di costanti stringhe, che vanno a costituire messaggi da inviare alla servlet, utilizzerò un'interfaccia. All'interno del Package Util, ho creato questa interfaccia Messages, che contiene delle stringhe costanti, da utilizzare, appunto, nelle altre classi. Per adesso ho definito la stringa NoRowAffected, alla quale corrisponde il valore, nessuna riga inserita, poi vedete NoPKGenerated, nessuna primary key generata, e poi PKKGenerated, la primary key è stata generata. Si usa un po' di inglese e un po' di italiano, abbiate pazienza, però mi viene più comodo perché i termini in inglese sono più corti. Pertanto, vado a sostituire questa Nessuna riga modificata con la costante Messages, NoRowEffected, questa con Messages, NoPKGenerated, e infine ID generato con Messages.pkGenerated. Quindi sono tornata sulla mia tabella artista. Vedete, qua ci sono le varie righe già inserite, ce ne sono alcune serie, e altre invece sono tutte righe che io ho utilizzato per fare le prove. Ora, le cancello, le elimino, quindi vado a selezionare queste righe Pippo, Pippo 2, Paperino, clicco su Elimina. Sì. Il problema adesso è che non è che l'ID si è ripristinato, cioè la prossima riga che andrò a inserire non avrà come ID 6, ma avrà come ID 14, perché l'ultimo ID inserito era il 13. Si può andare a riportare l'ID al valore successivo all'ultimo inserito? Sì. Vi faccio vedere come si fa, perché può essere utile. basta andare qui su Operazioni, cliccare, e vedete che qui c'è scritto Autoincrement, mi dà effettivamente il successivo ID, che come vi ho già detto sarebbe stato 14, e io lo riporto al valore successivo all'ultima riga inserita. L'ultima riga inserita è 5, quindi vado a modificare questo valore e a 6 e poi eseguo. Ora vado a eseguire l'applicazione da Insert Artist e vediamo un po' se tutto funziona correttamente. E invio. Come vedete la risposta dal server viene inviata, è una stringa JSON. Andiamo a vedere nella console Java cosa è stato prodotto. Guardiamo meglio. Allora, Artist è stato generato, poi Operation Result, il codice JDBC è nulla perché non si è verificato alcun errore, il messaggio è la primary key è stata generata e l'artista che è stato inserito ID6, il nome e la data di nascita anno inizio e alla fine sono quelli che ho inserito io nel form, e poi c'è la stringa JSON che è quella che viene inviata al client. Verifichiamo anche se nella tabella è stata inserita l'istanza, quindi faccio un aggiornamento e di fatti compare. Vediamo ora che cosa accade se cerco di inserire l'artista con lo stesso nome. Non mettiamo l'anno fine, così testiamo anche questa possibilità. Quindi vediamo cosa succede e si genera un errore, certo, e che errore è? Un errore individuato proprio dal driver JDBC, cioè prima da MySQL e poi inviato tramite il connettore. L'errore è Duplicate Entry Artista 4Key Nome. Molto bene, noi lo sappiamo, cioè il programmatore lo vede, questo errore, però il problema è che non è visibile dalla servlet, cioè si genera questo errore e bisogna in un qualche modo recuperarlo perché è necessario fornire questa informazione all'utente che sta operando mediante la parte client dell'applicazione. Vediamo come fare. preciso che questo tipo di eccezione che è un'eccezione SQL non viene gestita da questo metodo e quindi dalla classe Artista Manager ma viene rilanciata al chiamante e quindi alla servlet. Quindi la servlet riceve questa eccezione e noi dobbiamo gestirlo in qualche modo. al momento la servlet si limita a creare l'istanza di artista e poi inviare una risposta al client semplicemente il nome dell'artista. Però adesso qua dobbiamo aggiungere appunto la chiamata al metodo che fa l'inserimento nella tabella del database. Quindi vediamo qual è il codice da utilizzare. Per prima cosa definisco una variabile di tipo Operation Result la inizializzo null poi creo un'istanza della classe Artista Manager la chiamo MNG. Questo mi serve per poter poi effettuare la chiamata del metodo Insert. Il metodo Insert viene chiamato utilizzando l'istanza di Artist Manager e come parametro gli passiamo a Artist l'artista che dobbiamo inserire. Assegniamo il valore restituito a questa variabile res. Come vedete mi dà errore e sì perché questo metodo può generare un'eccezione quindi dobbiamo a questo punto non lo possiamo più rilanciare ma dobbiamo gestirla e per gestirla dobbiamo utilizzare il costrutto Try Catch. Eclipse mi aiuta a fare questo tipo di operazione suggerendomi di racchiudere le istruzioni che possono generare eccezione all'interno di questo costrutto. Lasciamo questa istruzione e punto Print Stack Trace che ci stampa sulla console la pila di tutte la stack di tutte le eccezioni che ci sono si sono generate perché ci può aiutare appunto a individuare l'errore e a correggerlo. utilizzando questi due metodi get error code e get message possiamo andare a recuperare sia il codice di errore JDBC sia il messaggio di errore generato cioè quello che abbiamo visto qui a console duplicate entry artist per chi nome e quindi a questo punto possiamo costruire distanza di res passando al costruttore operational result sia il codice di errore sia il messaggio di errore l'esecuzione avviene in questo modo si prova ad eseguire la chiamata a insert quindi eseguire il metodo insert della classe artist manager e se va tutto a buon fine si salta il blocco catch non viene eseguito se si verifica invece una SQL exception ecco che oltre a stampare ovviamente la stack degli errori andiamo a ottenere con get error code il codice di errore con get message il messaggio di errore e costruiamo un oggetto res con questo codice di errore questo messaggio e nessun contenuto ovviamente vado anche a fare una stampa di controllo per vedere res come è fatto e a questo punto posso preparare la stringa json da inviare al client quindi con la libreria json creo un'istanza poi vado a costruire la stringa json utilizzando il metodo to json e passando come parametro res e poi per un controllo faccio anche una stampa di questa stringa infine posso sostituire questo writer.println inviato nome con writer.println json res quindi sto inviando questa stringa al client vediamo cosa succede se inserisco un nuovo artista allora lasciamo perdere tutte queste stampe vediamo solo la parte finale allora istanza di artista con id null nome artista 2 data nascita eccetera eccetera poi l'operation result vedete che non c'è codice di errore il messaggio la premere che è stata generata content artista e poi abbiamo appunto i dati relativi all'artista compreso il suo id e poi c'è la stringa json con il messaggio e il contenuto che vengono inviati al client e quindi il client li potrà gestire come meglio crederà adesso invece sto provando a inserire lo stesso artista cioè un artista con lo stesso nome vediamo che cosa succede ecco come ci potevamo aspettare c'è il solito errore e che cosa come l'abbiamo gestito allora intanto vedete operation result che ha un codice di errore che è 1062 il messaggio che è appunto quello che vedete qui è content il contenuto è nullo perché non è stato inserito l'artista e che cosa è che mandiamo al client questa stringa json rest jdbc code 1062 message duplicate entry poi vedete questi caratteri e sì perché questi caratteri perché nel messaggio di errore ci sono degli apici e questi apici devono essere scritti mettendo davanti un backslash allora io voglio andare a fare una piccola modifica per non avere questi caratteri che poi dopo mi creano problemi nell'andare a recuperare i dati e e a scriverli quindi a gestirli e quindi devo cercare di eliminare questi apici dal messaggio che viene restituito in realtà è molto semplice basta utilizzare il metodo replace della classe stringa applicato al messaggio jdbc e andare a sostituire ogni apice con una stringa vuota poi vedremo il risultato di questa operazione ma devo ancora aggiungere una cosa il messaggio è in inglese e io vorrei invece trasformarlo in italiano è vero che in realtà le lingue non si gestiscono così si gestiscono in un modo un pochino più complesso però adesso per risolvere velocemente vi spiego che cos'è questa classe error code ho creato una classe error code la quale contiene questo metodo statico get message passandogli il codice jdbc ottenuto quindi per in seguito all'errore poi con uno switch case e vado a definire una frase in italiano per spiegare l'errore verificato e corrispondente a questo codice quindi andiamo a vedere che cosa quali sono le modifiche da apportare alla servlet prima di creare res vado a chiamare il metodo get message di error code passando come parametro jdbc code cioè il codice di errore e questo metodo mi restituisce appunto la stringa il messaggio in italiano aggiungo poi in res al messaggio questo msg ripeto il messaggio in italiano lo concateno con un due punti e con il messaggio originale in modo tale che il client abbia sia il messaggio in italiano eventualmente da proporre all'utente seguito anche dal messaggio più specifico che fa riferimento quindi proprio al campo che è stato duplicato ho ripulito anche un po' il codice togliendo via un po' di istruzioni di debug e andiamo adesso a vedere che cosa succede se cerco di inserire un artista che il cui nome è già presente nella tabella del database abbiamo quindi l'errore che ci dice che è artista 2 già presente poi l'Operation Result JDBC Code 1062 il messaggio vedete che c'è sia diciamo il messaggio in italiano inserimento di un campo già esistente e poi c'è invece la parte più dettagliata in inglese e per quanto riguarda la stringa JSON mandiamo il codice di errore il messaggio e poi sarà il client a gestirlo nel modo che preferisce vedete che non ci sono più quei caratteri che rappresentavano il backslash la prossima lezione affronterà anche l'inserimento dell'album però vedremo che per quanto riguarda l'album dovremmo fare qualche variazione sulle tabelle del database perché per ogni album inserito vogliamo anche andare a memorizzare qual è l'artista che ha realizzato prodotto quel particolare album quindi prima affronteremo questa problematica sulle tabelle del database e poi andremo a fare tutte le opportune modifiche al codice a costruire a definire sia l'operazione di inserimento dell'album sul database sia modificare la servet relativa per rispettare le opportunità di inserimento di inserimento per il